Noi siamo un'organizzazione sindacale, abbiamo rispetto per le idee che i partiti politici hanno, chiediamo altrettanto rispetto per le nostre iniziative, nonostante non spetti a noi siamo stati in grado di avanzare delle proposte per cambiare il segno di questa manola, spetta poi i partiti in Parlamento, invece che parlare fuori sarebbe meglio che parlassero in Parlamento per cercare di cambiare i contenuti di questa manovra, ma dico di più, noi abbiamo incontrato nella giornata di ieri il segretario Rasetto, il segretario Rasetto penso anche attraverso il comunicato stampa ha portato a conoscenza la condivisione che il suo partito, lui personalmente ha nei confronti della nostra manifestazione, è chiaro che noi non possiamo chiedere ad un partito politico di aderire, perché il partito fa la sua vita, noi facciamo la nostra, hanno i luoghi parlamentari per poter esprimere le loro proteste, vorrei sapere se fosse già sindaco, visto che si è candidata alle primarie, come potrebbe gestire una città con i tagli che questa manovra comporta? Il sindacato non ha altri strumenti ad oggi, sono quello di fare dello sciopero di scendere in piazza, io penso che un sindacato che si voglia ancora chiamare tale è questa l'unica arma che oggi ha di fronte e può utilizzare.